La madre e le suori, gheria d'ordine che legava natura al papa a Roma, legava natura al papa, la madre aveva la macchina, aveva anche lì, i pazienti, proprio timur la madre, energica la madre lì, allora le parte con le sue suori e le vato al papa, strada facendo la macchina non la parte più, la si fermava, ma in parte con la stessa macchina cosa avrà, guardiamo a Roma domandà, si fermò l'uomo e le fa vedere che la macchina non va, e che fume, un po' da natura al papa, a casa delle mie suori, le dice, questa macchina non va più, dovete lasciarla in parte, allora che fume, le suori alla madre, madre, Roma fa autostop, proviamo, proviamo, e beh, proviamo, le dice, proviamo a fare autostop, la sua suori, e la madre le va in banda, la sua della macchina, e le comincia a fare autostop, ah, non si ferma nessuno, che che suori, e gli dice, e le tante si ferma uno, la madre la voleva in banda, casata perché, io non lo voleva essere, lei che arrivava al papa con la sua macchina, la va lì da un uomo che chiede, la domanda dove va e dove non va, l'uomo gli dice anche lui che va da quelle parti, e la madre la chiede, che le gadanarono, ma trova al papa, al dè che dice, a volte stava, perché un sacchiesto se le portava anche loro, no? e lui gli faia vol, la madre si dice verso le suori, le suori si dice verso la madre, le dice cosa di questa madre, cosa caldito, cosa caldito, il gadito che la vol, eh, ben, ben, le dice, in tanto montemo, che se propi che la daremo, le dice, ma il papa mi è nato, vale, il papa mi è nato, se propi che la daremo.